I ragazzi hanno presentato le ragazze della box club di Locarno ultimo applauso, bravissime ragazze di consigliate di parte dei fileri come professionista non siete bravi, bravi, abiti da sogno queste erano le donne, abiti da sposa mentre arrivano i ragazzi con l'abito da cerimonia no ragazzi no, va bene, solo le donne un ultimo applauso, bravi alla mia Couture Locarno Moralto